La vergiatese La vergiatese La vergiatese Questa volta di rapina 31esimo 31esimo Gol stagionale Per il numero 9 Numeri impressionanti Per un giocatore Che ha scelto di sposare In pieno Il progetto León Indipendentemente Dalla categoria Partita in ghiaccio Per la León Perché la vergiatese Si accusa il colpo Magudo Attento Prima sul tiro cross Di Bonseri Successivamente Sulla punizione Velenosa Dalla sinistra Che non trova però Nessuna deviazione Nel finale Si vede anche La formazione Granata Prima il tiro a giro Di Quartesan Ancora una volta Troppo centrale Poi un colpo di testa Pericoloso Ma parato Da Sgura Infine L'azione Di sfondamento Di Moussafir Sulla destra Entrato nella ripresa Ma sul passaggio Del numero 19 Nessuno è ben appostato Nel cuore Dell'area di rigore E anche Ocaigni Successivamente Calcialato Da buona posizione La vergiatese Ancora però Sul colpo di testa Di Bonseri Dopo la pennellata Di Lillo E alla fine Deve anche accontentarsi Del 2-0 Che di fatto È ipoteca Per la León Mentre i ragazzi Di Ramella Sono chiamati Una vera E propria impresa Grazie a tutti